Ben ritrovati a Motore Salute. Questa sera parliamo di menopausa, un periodo nella vita della donna che è molto importante e che non va visto solo in termini negativi. Ne parliamo questa sera con la professoressa Chiara Benedetto, Università di Torino. Buonasera professoressa. Allora la menopausa io dico sempre che capita alle donne fortunate, a quelle che sono così fortunate da riuscire ad arrivare all'età della menopausa e quindi è una fortuna. Molto giusto. Che cos'è? La menopausa è la cessazione del flusso mestruale dovuto all'esaurimento dei follicoli ovarici, cioè che contengono le cellule uovo che noi abbiamo come patrimonio al momento della nascita, noi come donne che a un certo punto si esaurisce. Quando si esaurisce ecco che avviene la menopausa che può avvenire spontaneamente nella maggior parte delle donne ma può anche essere secondaria, interventi chirurgici in cui vengono rimosse le ovaie oppure in seguito a trattamenti chemio o radioterapici. Allora ci sono alcuni sintomi, alcuni segnali che molte delle nostre telespettatrici ci segnalano, ad esempio le vampate di calore, ad esempio si dorme meno bene la notte. Tutto questo è vero o è un falso mito? È vero per più del 90% delle donne. Di solito le prime avvisaglie sono rappresentate dalla comparsa di irregolarità dei cicli mestruali, infatti in un primo momento i cicli sono più raccorciate e poi invece diventano più lunghi per cui le mestruazioni si allontanano le une dalle altre finché a un certo punto non compaiono più. I sintomi di solito sono quelli che lei ha detto, le vampate di calore con tachicardia, soprattutto notturne nei primi tempi, irritabilità, nervosismo, sbalzi di umore, diminuzione della concentrazione, diminuzione della memoria e poi possono poi comparire degli altri sintomi come la secchezza vaginale, la diminuzione della libido che possono poi, se non si fa nulla, anche potenzialmente creare qualche problema di coppia. Allora, partiamo di qui che è un problema grave ma risolvibile. Che cosa possiamo fare per prolungare la giovinezza di fatto? Quello che possiamo fare, se non ci sono delle controindicazioni specifiche ad alcuni tipi di trattamento, è iniziare la cosiddetta terapia sostitutiva il più precocemente possibile. Questo è proprio il punto fondamentale perché è dimostrato che iniziandola il più precocemente possibile si ottengono dei risultati importantissimi. Si vive più a lungo perché diminuisce il rischio di malattie cardiovascolari, diminuisce anche il rischio di alcuni tumori, diminuisce anche il rischio di demenza, morbo di Alzheimer e anche, come sappiamo benissimo, diminuisce il rischio dell'osteoporosi oltre a darci la possibilità di avere una qualità di vita molto migliore perché quando si hanno quei sintomi molto forti la qualità di vita certamente non è ideale. Però quanto lei dice, diciamo, dimentichiamoci la qualità della vita, facciamo finta che la vita abbia lo stesso tipo di qualità ma i benefici sono veramente enormi. Sì, i benefici sono enormi e nonostante questo purtroppo... Per quale motivo le donne di fatto hanno così paura, sono così spaventate della terapia ormonale sostitutiva? È quello che continua a stupirci. C'è stato un momento, diciamo più di dieci anni fa, in cui anche a livello di mass media c'è stata una campagna che ha spaventato molto le persone sulla base di alcuni risultati che poi si è dimostrato che non fossero dei risultati attendibili. Chi di noi aveva una certa dimostichezza con questo tipo di terapie, infatti si era chiesto immediatamente perché avessero trattato con la terapia ormonale sostitutiva certi tipi di donne che noi non avremmo mai trattato. Quindi si tratta sempre di scegliere la donna giusta nel momento giusto. E la terapia giusta? E la terapia giusta. E quindi anche in questo caso è fondamentale accertarci che non ci siano delle controindicazioni all'utilizzo di certi trattamenti. Se non ci sono è importante iniziarla subito perché se la si inizia molti anni dopo la menopausa addirittura si perdono tutti i benefici perché i vasi sanguigni nel corso di quegli anni sono andati incontro a delle alterazioni dovute alla carenza degli estrogeni e anche all'invecchiamento e quindi non si hanno più i benefici che invece si possono avere se le terapie vengono iniziate immediatamente. Esistono anche delle terapie tra virgolette naturali, esistono dei nutraceutici che vengono consigliati in farmacia o che vengono consigliati dal nostro medico di medicina generale. Quelli li possiamo assumere senza necessità di consultare il medico oppure è comunque meglio consultare un medico. Penso che in ogni caso convenga consultare un medico proprio per valutare le proprie esigenze, i propri problemi e insieme decidere che cosa può essere più utile utilizzare sia a scopo preventivo sia per farci stare meglio in quel particolare momento. Allora a proposito delle malattie cardiovascolari lo voglio ricordare perché molti di noi non lo sanno sono molte più le donne degli uomini che oggi purtroppo muoiono di malattie cardiovascolari. È vero che è molto più avanti negli anni ma più di una donna su due nel 2016 in Italia è morta di un qualche genere di malattia cardiovascolare contro un uomo su tre e quindi è un falso mito da sfatare, è un falso mito che nel caso delle donne è molto pericoloso. Sono perfettamente d'accordo perché ciò che in genere fa più paura è l'idea del tumore e in particolare il tumore della mammella ma sappiamo che il minimo aumento di rischio di questo genere di tumore si ha soltanto con alcuni tipi di terapie ormonali sostitutive che ormai non si utilizzano più e comunque è stato anche dimostrato che coloro che facevano queste terapie sostitutive che hanno avuto il tumore alla mammella in realtà hanno avuto dei tumori più curabili e quindi non è aumentata la mortalità. Ciò che deve essere tenuto presente sono i dati che dimostrano che la mortalità in generale per qualsiasi causa è inferiore in chi fa la terapia sostitutiva se non ha controindicazioni specifiche rispetto a chi non la fa. Mancano due minuti che dedicherei all'osteoporosi. La terapia sostitutiva ci aiuta ad allontanare il pericolo dell'osteoporosi, non certo eliminarlo. Certo perché bisogna incominciare a fare una prevenzione già dai primi anni di vita. Sappiamo benissimo che un'alimentazione adeguata, uno stile di vita corretto, un'attività fisica iniziata durante l'infanzia e l'adolescenza ci permettono di raggiungere un picco di massa ossea che è ciò da cui noi partiamo maggiore rispetto a chi non utilizza tutti questi accorgimenti. Quindi è importante iniziare la prevenzione già in quella fascia di età, è importante non fumare, bere pochi alcolici e quindi ecco che come si arriva alla menopausa e quindi anche il rischio di osteoporosi è determinato non soltanto dai nostri geni ma da ciò che noi abbiamo fatto nel corso di tutta la nostra vita e al momento della menopausa un'altra arma che noi possiamo utilizzare è quella della terapia ormonale sostitutiva che diminuisce il rischio di fratture sia a livello del femore che a livello della colonna vertebrale e poi ecco anche in questo periodo della vita pensare a fare esercizio fisico, stare all'aria aperta, seguire un'alimentazione corretta, non fumare, bere giuste quantità di alcolici e non troppo e facendo tutte queste cose abbiamo una maggiore probabilità di farcela a non avere poi delle fratture del femore. Grazie per essere stata con noi, piccola pausa, restate con noi. Buonasera e ben ritrovati a Motore Salute TG Paura di volare per 7 italiani su 10 I numeri emergono da un sondaggio realizzato dall'Associazione Europea Disturbi d'attacco di panico a cui hanno risposto 568 persone di ambo sessi dai 25 ai 65 anni Il 67% delle persone detesta prendere l'aereo perché ha la sensazione di non avere il controllo del mezzo e quindi della situazione in generale Il 77% invece teme un attentato terroristico Il 69% preferisce spostarsi con mezzi alternativi come il treno o altri mezzi su strada Solo in pochi, cioè il 17% amano prendere l'aereo per raggiungere le mete dei loro viaggi L'ansia d'aereo colpisce indistintamente grandi, piccoli, uomini o donne Soprattutto però colpisce i viaggiatori occasionali Nella maggior parte dei viaggiatori l'ansia di volare è facilmente gestibile con esercizi di autocontrollo o grazie al supporto di amici, colleghi o parenti con cui si viaggia Una mela al giorno toglie il medico di torno Una ricerca italiana ha svelato perché il vecchio detto è sempre attuale Ancora una volta al centro della ricerca c'è il microbiota dell'intestino Si tratta di quell'insieme di organismi che vivono nell'intestino e che sono fondamentali per il benessere fisico e psicologico del proprio organismo La mela in particolare è ricca di polifenoli Un team di scienziati ha scoperto che i polifenoli si trasformano in 110 diverse forme chimiche biodisponibili ovvero che il nostro corpo riesce ad assimilare Nessuno dei composti fenolici presenti nel succo della mela si trova nell'organismo nella sua forma originale cioè quella del presente mela segno di come ci sia una lavorazione naturale all'interno del corpo Anche per questa sera è tutto Io passo la linea allo studio e ringrazio per l'attenzione Grazie Grazie